Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Dolore sconcerto per la morte del paziente che viaggiava nell'ambulanza che si è scontrata contro un tir sulla Pergolese Fossombrone si candida ad ospitare uno dei due elicotteri del 118, per l'attivazione però del servizio bisognerà attendere ancora un po' di tempo Giornata di ricordi ed emozioni durante l'alza bandiera per più di 300 persone che a Fanno hanno fatto il militare alla Paolini Giornata amara per i Granata che perdono fuori casa, continua invece la corsa della Visse che vince a San Marino ed è prima in classifica Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fanno TV, sul canale 17 c'è l'informazione locale Allora la cronaca, è stato profondo sconcerto la morte di quel paziente di 77 anni che è rimasto coinvolto in un incidente stradale Provocato dallo scontro tra un'ambulanza sulla quale viaggiava appunto e un tir sulla Pergolese Purtroppo il terribile schianto frontale sulla Pergolese tra un'ambulanza della Croce Rossa di Pergola ed un tir di giovedì scorso con cinque persone coinvolte di cui due gravi trasportate all'ospedale regionale di Ancona da due eliambulanze registra una vittima Non è l'autista dell'ambulanza, apparso subito il più grave, rianimato anche sul posto dai soccorritori del 118 prima del trasbordo Lui, Moreno Mancini di 60 anni, a causa delle gravi lesioni toraciche tenuto in coma farmacologico mostra in queste ore segni di miglioramento A perdere la vita è stato il trasportato dell'ambulanza Nello Tonelli, di 77 anni, non ce l'ha fatta è morto a luna di notte di domenica anche se non era considerato dai sanitari dell'ospedale San Salvatore di Pesaro dove l'anziano era ricoverato in pericolo di vita Nell'incidente aveva riportato una serie di ferite al capo e all'orecchio ed una brutta frattura al femore Nello si trovava a bordo del mezzo della Croce Rossa di Pergola assieme alla moglie di ritorno dall'ospedale di Fano dove era stato per accertamenti nel reparto di oncologia dove era seguito da tempo a causa della sua malattia La moglie di Tonelli, Primula Beciani, non si capacita però della morte del marito e vuole capirne la ragione ha infatti dato in carico ai suoi legali di visionare la cartella del marito La stessa moglie riferisce che i medici avevano ipotizzato un intervento con protesi per il marito intervento poi non eseguito per gli alti rischi a cui poteva andare incontro Tonelli ma questo non è stato sufficiente Nello Tonelli è morto per le gravi conseguenze dell'incidente Il 77enne era molto conosciuto a Pergola e oltre alla moglie lascia anche una figlia Intanto l'autista, sempre riferimento a questo incidente l'autista del mezzo pesante che aveva riportato una contusione alla spalla è stato dimesso dall'ospedale di Pesaro dove era stato ricoverato appunto subito dopo l'incidente Allora Fossombrone si candida per ospitare a ospitare uno dei due elicotteri in servizio in regione del 118 insomma elisoccorso anche se per l'attivazione di questo servizio come sentiremo tra poco bisognerà attendere il 2018 Croce Rossa e Protezione Civile ci dicono che il nostro eliporto ha tutte le carte in regola per ospitare un'eliambulanza in modo permanente è abilitato al volo notturno ed è baricentrico rispetto agli altri siti Lo dice il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci per cui il nodo della sanità rappresenta una vera e propria spina nel fianco Il tutto nasce da una delibera regionale la 846 del luglio 2016 con la quale la regione Marche dichiara di voler potenziare il servizio di elisoccorso anche nelle ore notturne H24 e con meteo avverso e conferisce mandato all'azienda ospedale riuniti di Ancona per poter attivare il servizio entro febbraio 2017 e il relativo stanziamento è di individuare da parte della direzione sanitaria e protezione civile i siti idonei di atterraggio proprio al volo notturno Per cui ribadisco l'impegno assoluto nei confronti del nostro ospedale ma anche degli altri ospedali chiusi perché siamo convinti che questa riforma non vada bene viene portata avanti male, i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti quindi quella è la nostra priorità In questa si inserisce anche il servizio dell'elisoccorso comunque importante perché poi sappiamo bene che la nostra provincia è un territorio oltre che vasto e anche molto particolare nel senso trevallate, per cui colline intervallate da fiumi per cui una presenza costante dell'elisoccorso sarebbe importante però come dico questo è un qualcosa in più rispetto a tutto il resto che va rivisto Ma ad oggi di tutto questo siamo ben oltre la scadenza di febbraio è lettera morta e per questo il consigliere regionale 5 Stelle Fabri ha presentato un'interrogazione al presidente con delega alla sanità Luca Ceriscioli su come mai tutto questo ancora non è stato attivato e la risposta è arrivata in queste ore per voce del vicepresidente Anna Casini che ha di fatto slittato ad ottobre 2018 l'attivazione di questo vitale servizio visti anche i recenti fatti di cronaca Cambio della guardia all'ufficio locale marittimo di Marotta Nicola Montali succede ad Angelo Savella A partire da oggi i due ufficiali di Marina sono stati ricevuti dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri il quale ha tenuto a ringraziare Angelo Savella per il grande impegno profuso beneficio della comunità All'incontro erano presenti oltre alle autorità civili anche il capo del compartimento marittimo provinciale Silvestro Girgenti e il comandante del porto di Fano Clara Iasella Più di 300 persone si sono date appuntamento a Fano domenica scorsa per rivivere una giornata di ricordi all'interno del piazzale dell'ex caserma Paolini dove una ventina d'anni fa giurarono fedeltà alla patria Per chi l'ha fatta la naia o il servizio di leva obbligatorio come veniva codificato al tempo nel bene o nel male rimane un ricordo indelebile per alcuni un vero trauma soprattutto per chi non aveva mai messo il naso fuori di casa per altri invece un modo per evadere proprio dalla soffocante alla protettrice della famiglia uno shock sicuro invece per tutte le mamme a prescindere a Fano la caserma Paolini è stata nel recente passato prima di essere chiusa 17 anni fa una caserma CAR dove oltre mille recute al mese andavano e venivano un punto di passaggio ma che era la loro seconda casa dopo il distacco da quella genitoriale come quindi non rimanere nel cuore ed infatti l'iniziativa di farla rivivere per una giornata proprio dalle sue ex reclute ha subito riscosso un grande successo Domenica una settantina di commilitoni passati dalla Paolini provenienti da mezza Italia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna i nuclei più corposi data la vicinanza geografica ma anche da Puglio a Sicilia e Campania hanno vissuto il toccante momento dell'alza bandiera assieme a moglie e figli, occhi lucidi e mano sul petto chi con i pochi capelli rimasti o non più ai tante nel fisico come un tempo lo visse da appena diciottenne proprio nello stesso piazzale assieme all'ultimo comandante della caserma il colonnello Santinelli Abbiamo avuto oggi la dimostrazione che tutti i giovani che sono venuti con entusiasmo e che tutto sommato la servizio militare non è stato un grosso sacrificio dal momento che si trovano ancora qui a ricordare quei momenti che possono per alcuni essere stati negativi o altri positivi ma in linea di massima per tutti i positivi momento particolarmente toccante è anche quello della messa celebrata dall'ultimo dei cappellani militari Don Luigi Sarti davanti a 300 persone oltre ai familiari al seguito dei forestieri c'erano molti cosiddetti imboscati ovvero i fanesi che erano riusciti a farsi assegnare alla caserma della propria città un'esperienza comunque che sicuramente verrà riproposta ha commentato entusiasticamente Luciano Cecchini al fine della giornata uno dei fautori dell'evento anche se il maltempo ha di fatto ridotto solo a domenica mattina le celebrazioni la città di Fano vuole comunque far rivivere questo luogo così significativo per tutta la comunità ha un duplice significato questo momento uno più leggero come dicevo è quello del ricordo dell'esperienza vissuta nella città di Fano l'altro è anche un bel ricordo verso chi ha servito il paese ha servito la patria un ricordo verso i caduti per la patria chi ha sacrificato la propria vita per far sì che oggi viviamo in democrazia e viviamo in libertà quindi un grazie di cuore agli organizzatori a chi ha pensato questa bella idea che sicuramente continuerà anche nei prossimi anni Avete visto adesso il sindaco vi ricordo che mercoledì sera il sindaco di Fano Massimo Seri sarà ospite qui in studio in diretta per rispondere alle vostre domande alle vostre richieste all'interno del suo programma che è Primo Cittadino Adesso invece spazio alle vostre segnalazioni i reporter di strada, di occhio alla notizia Fano TV sono sempre al lavoro e allora adesso partiamo da queste immagini che vi mostriamo e che ci fanno vedere come la pavimentazione al ridosso del bastione Sangallo come si vede appunto è fortemente deteriorata in alcuni punti completamente assente al di là dell'estetica può essere anche pericoloso c'è anche un po' di audio non so se riusciamo a sentirlo oppure direi che ecco questo ci fa capire e fa capire i telespettatori un po' meglio in quale punto siamo vicini alla stazione ferroviaria ecco adesso con il cellulare il nostro reporter torna sull'asfalto su questo che dovrebbe essere un asfalto perlomeno sicuro in realtà la grande bellezza ecco sentite la grande bellezza ha fatto anche un commento insomma ci sono potete anche commentarli veramente i vostri filmati quelli che ci inviate ecco vedete in quale situazione e tenendo conto che da quel punto si va dalla stazione passano e arrivano tante persone insomma ecco non è certo un bel biglietto da visita uno dei meravigliosi biglietti da visita di Fano e a poca distanza dalla stazione dei treni c'è nella zona di Viale Cairoli un altro nostro reporter di strada ci ha inviato alcune fotografie nelle quali si vede una siringa usata gettata a terra a due passi dal Lido è un vicoletto che in pochi conoscono se non chi ci abita o chi deve andare alla sua barca ormeggiata lungo il porto canale lo simbocca in fondo a Viale Cairoli prima del passaggio pedonale per il Lido costeggiando la ferrovia a portarci qui è stata la segnalazione di un cittadino e di segni che notiamo al nostro arrivo sono inequivocabili circa le cattive frequentazioni serali di questo posto e di una situazione datata di sporcizia e degrado a pochi passi dal salotto buono della città come ci ha riferito il segnalatore l'oscurità che avvolge questo posto e lo scarso passaggio serale ne fanno ahimè un posto ideale per tossicodipendenti o per chi cerca lo sballo serale sono tantissime le bottiglie di birra vino e super alcolici lasciate vuote praticamente ovunque anche negli spazi condominali delle abitazioni che qui hanno il retro gli innumerevoli bicchieri di plastica da cocktail e relative cannucce venere sparpagliate ovunque ci suggeriscono una prolungata permanenza sul posto in ore serali ma la cosa che più ci desta allarme è la siringa usata ancora sporca che ci ha detto il telespettatore è lì da diversi giorni a testimonianza di chi frequenta il luogo ed infatti fatichiamo poco ad individuarla la troviamo poco distante dalle abitazioni pericolosamente lì a portata di mano di chiunque anche di ignari bambini e c'è un'altra segnalazione che arriva dal cimitero dell'Ulivo a Fano la segnalazione di alcuni utenti che hanno scattato questa fotografia nella quale si vedono questi vasconi ancora con acqua stagnante questi vasconi delimitano i loculi lungo i viali e normalmente sono delle piccole cascatelle d'acqua in movimento in realtà l'acqua piovane dei giorni scorsi è rimasta lì per troppo tempo ora è più che mai scrivono maleodorante e soprattutto luogo ideale per la proliferazione delle zanzare vedo Matteo del Vecchio pronto in postazione c'è lo sport noi ci vediamo tra un attimo grazie Marco e benvenuti al primo appuntamento della nuova stagione con lo sport qui su Fano TV anche quest'anno ovviamente cercheremo di dare spazio e voce a tutte le discipline ma è d'obbligo dedicare la copertina al calcio anche se come vedrete tra poco dalle immagini non sono andate molto bene le cose ieri all'alma nel campionato di Serie C sul campo della Feralpi Salò arriva la terza sconfitta consecutiva per i Granata che pagano a caro prezzo alcune ingenuità e l'organico ridotto cui si aggiunge dopo 20 minuti l'infortunio di Lanini che costringe Cuttone a reinventarsi il reparto arretrato parte comunque come meglio non potrebbe il Fano in gol dopo appena un minuto con Germinale che insacca di testa su corner di Filippini e potrebbe addirittura raddoppiare all'undicesimo ma Schiavini è in preciso sottoporta i padroni di casa si fanno minacciosi dalle parti di Miori al ventitreesimo ma prima il difensore Maddaloni poi lo stesso estremo difensore dicono di no agli attaccanti bresciani il forcing della Feralpi viene premiato a due minuti dallo scadere quando Guerra al limite del fuorigioco sfrutta la verticalizzazione di Vito Francesco e impatta il pareggio a fine primo tempo pesa sulla testa dei Granata che entrano in campo nella ripresa ancora un po' scossi e subiscono la rete del sorpasso al settimo sempre con Bomber Guerra lesto ad incunearsi tra Soprano e Maddaloni e a superare Miori al ventiquattresimo l'episodio che fa esplodere di rabbia il popolo Granata protagonista il ganese Ecclo che da pochi passi cerca per due volte di superare il portiere Caglioni nel secondo tentativo la palla supera la linea di porta secondo i giocatori del Fano no per l'arbitro Moriconi di Roma in Serie C non è ancora arrivato il VAR la moviola in campo per cui si continua a giocare per vinti e poco dopo col tiro cross di Filippini mettono di nuovo i brividi al portiere Lombardo al quarantesimo l'ultima azione del match con Germinale che lambisce il palo dalla distanza ma non riesce a trovare il gol che avrebbe consentito al Fano di evitare la terza sconfitta in quattro gare una sconfitta che relega l'Alma al terzultimo posto in classifica davanti alle sole Modena e Gubbio domenica prossima turno di riposo per i ragazzi di Cuttone che proverà così a recuperare tutti gli effettivi per la sfida del primo ottobre quando Almancini arriverà in Ravenna una partita assolutamente da vincere per non restare immischiati nelle sabbie mobili delle retrovie e vanno decisamente meglio le cose alla vispesero in serie D soprattutto dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta ieri una rete di baldazzi dopo otto minuti consente ai biancorossi di guadagnare la vetta della classifica in solitaria vittima di turno il San Marino piegato alla prima occasione e poi incapace di abbattere il fortino pesarese domenica prossima l'occasione di allungare per gli uomini di Riolfo che al Benelli attendono l'Avezzano squadra fin qui apparsa decisamente inferiore rispetto ai pesaresi e chiudiamo la pagina calcistica per parlare dell'impresa compiuta ieri dalla squadra femminile di bocce del comitato di Pesaro al centro tecnico federale di Roma teatro delle più prestigiose manifestazioni nazionali la squadra del neopresidente Gianluca Simoncini iscrive il suo nome nella storia andando a vincere la prima edizione della Coppa Italia femminile senior Kermes che ha visto sfidarsi nell'atto conclusivo dello scorso weekend le otto formazioni migliori d'Italia dopo aver superato ai quarti Milano e in semifinale Frosinone il team guidato dal tecnico Atos Volpini e dalla dirigente Monica Delvecchio ha piegato in finale la resistenza di Reggio Emilia squadra allenata dalla campionessa del mondo Elisa Luccarini e capitanata dalla campionessa italiana in carica di categoria A Marina Braconi soddisfazione alle stelle per la delegazione pesarese presenti a Roma che oltre ai già citati dirigenti era composta da Loredana Casagrande e Katia Boncompagni di Fossombrone Chiara Gasperini Flavia Morelli e Gabriella Vitali di Lucrezia Edda Guzzi di Tavernelle e Pasquina Urbinati di Colbordolo Chiuso il capitolo bocce e in attesa che riprendano i campionati di calcio a 5 volley e rugby vi segnaliamo un appuntamento in programma il 21 e 22 ottobre quando Fano ospiterà i campionati italiani di frisbee di serie B evento che vedrà arrivare nella nostra città 10 squadre provenienti da tutta Italia di questo e di altri eventi avremo sicuramente modo di parlare nelle prossime settimane intanto io vi ricordo l'indirizzo email dove potete inviare le vostre segnalazioni che è lo stesso dell'anno scorso ovvero sportchiocciolafanotv.it per questa sera non ci sono altre notizie io mi fermo qui grazie per l'attenzione e l'augurio a tutti voi di una buona serata bene grazie a Matteo del Vecchio della redazione sportiva allora c'è un'altra notizia è morto a 88 anni l'architetto Luigi Cristini fondatore dello storico gruppo Marche già presidente nazionale della Federa Architetti consulente dell'ufficio programma della regione Marche Cristini fu anche consigliere regionale DC fra il 1983 e il 1985 era nato a San Severino Marche chiudiamo con la foto adesso di alcuni giovanissimi pescatori un gruppo che ieri pomeriggio al lago Armandino di Lucrezia ha disputato una entusiasmante gara di pesca il vincitore ha pescato pensate ben 15 chili di pesce aggiudicandosi il trofeo dopo di noi c'è Box poi in cucina con lo chef e poi una bella serata con uno spettacolo di danza classica lo schiaccianoci grazie per aver seguito il nostro telegiornale a domani a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti